I miocarditi cosa sono? Sono delle infiammazioni del miocardio in cui troveremmo di solito una presenza di infiltrato infiammatorio e delle necrosi dei miocidi. Le lesioni principali sono delle cicatrici. Bisogna fare una diagnosi differenziale tra la cardiopatia ischemica e le miocarditi. La cardiopatia ischemica crea un danno a livello delle coronarie mentre le miocarditi non creano questo tipo di danno. Le miocarditi sono suddivise miocarditi primitive e secondarie. Quelle primitive sono chiamate anche la malattia di Filder, ex malattia di Filder, la cui etiologia risulterà essere ignota. Di solito troveremo come etiologia la presenza di un virus ignoto, oppure una ipersensibilità dei farmaci o anche la presenza di una risposta autoimmune con la produzione di anticorpi anti miocardio. La lesione che ritroviamo in questo tipo di miocarditi sarà una lesione isolata, un'isola granulomatosa gigante cellulare e dal punto di vista morfologico spesso il cuore sarà ingrandito, c'è una cardiomegalia dove questi cuori raggiungono anche un peso maggiore di un chilo e mezzo. Il cuore inoltre sarà dilatato, sarà flaccido con la presenza di un ristagno di emboli. Inoltre dal punto di vista microscopico troveremo una forma più diffusa in cui ci sarà la presenza di un infiltrato infiammatorio e a livello dei miocidi troveremo una riduzione delle estrie, mentre nella forma quella granulomatosa ci sarà infiltrato infiammatorio con la presenza di linfociti, di macrofagi, cellule giganti e un'aritmia in insufficienza cardiaca con gestizia possono essere due complicanze che si associano a questa malattia e che tendenzialmente causano la morte. La proniosi è anche infasta soprattutto se c'è pure un ischemia che va ulteriormente a complicare il quadro clinico. Dal punto di vista invece delle miocardite secondarie dobbiamo dire che i patogeni più scatenanti di questo tipo di miocardite sono virus come quello dell'influenza o paramyxovirus, poxaghi in particolare, oppure dei batteri come quelle difteriche, infatti vedremo la miocardite difterica, funghi, protozoi e dicendo. Dal punto di vista macroscopico di solito il cuore risulterà essere più ingrandito e giallastro, dilatato e flaccido. Abbiamo diversi tipi di miocardite, la miocardite purulenta, la miocardite difterica, la miocardite, la malattia di Shagas e quella virale. La miocardite purulenta è data dal fatto che abbiamo un patogeno che è appunto lo stretto cocco Biogenes in particolare che va a raggiungere il miocardio, da qui il circolo coronarico e può infettare per contiguità l'endocardio e il pericardio causando un'endocardite infettiva oppure una pericardite purulenta. Per quanto invece riguarda la morfologia, dal punto di vista macroscopico sappiamo che si formeranno degli oscessi giallastri confluenti perché a monte c'è un'attivazione di cellule frugistiche che rilasciano degli infociti, dei polimorfonucleati e delle tossine che creano quindi la formazione degli oscessi. Dal punto di vista microscopico invece abbiamo dei popolari di necrosi con aloni di leucocidi. Le miocardite evolvono poi in cicatrici e possono avere complicanze di vario tipo, per esempio troveremo il ricardite purulenta, l'endocardite batterica come abbiamo detto prima, la rottura dei muscoli papillari che portano in insufficienza valvolare, la rottura di cuore e la rottura anche del setto. Inoltre ci possono essere degli oscessi quindi che tendono ulcerare e quindi portano a queste complicanze. la miocardite difterica invece è una condizione dovuta alla produzione di un'esotossina favorita da una diminuzione di ferro e la porzione proteica del citocromo beta 1 entra in contrasto con quella dell'ospite quindi va ad inibire quella dell'ospite e quindi ci sarà a livello dei mitocondri anche un'alterazione della fosforilazione ossidativa con il riconfiamento torbido, steatosi e necrosi. Proprio per la steatosi microscopicamente il cuore anche sarà giallastro quindi per l'accumulo di questi lipidi e avrà un aspetto definito a palla. Dal punto di vista microscopico troveremo la steatosi, l'amiolisi, le calcificazioni che in realtà è una complicanza dando anche un cuore definito cuore a pietra quando queste calcificazioni sono importanti e la presenza di linfociti, granulociti, osinofili e istiociti quindi costituiscono l'infiltrato infiammatorio. Poi abbiamo la miocardite virale che è una condizione dovuta al fatto che ci sono dei virus che abbiamo visto prima come quelle influenze paramyxovirus o i goxaki che vanno a creare quindi una miocardite. Di solito nei virus andiamo ad identificare una, innanzitutto, una nezologia differente nei bambini e nei giovani adulti. Nei bambini di solito puoi fare un inesito fatale e i giovani adulti invece un inesito benigno e intacca soprattutto i maschi. Una volta che ci sarà l'infezione dal virus di di solito dopo circa un periodo di latenza di 2-3 settimane ci sarà la necrosi mano a mano, in realtà ci sarà intaccamento prima dei miocidi, è un danno e poi la necrosi dei miocidi che porta all'attivazione dei linfociti B che rilasciano anticorpi. Linfociti Helper verranno prodotti poi degli anticorpi anti-miosine che appunto si ritrovano in circolo. Dal punto di vista morfologico il cuore sarà sempre pallido e flaccido e inoltre dal punto di vista microscopico troveremo la presenza di un infiltrato infiammatorio di vario tipo con etema e necrosi dei miocardiocidi, flocosi al livello del miocardio e al livello anche flocosi interstiziale e i miocardiocidi saranno più distanti fra di loro. Dal punto di vista dell'evoluzione abbiamo detto nell'adulto di solito una prognosi buona però se ci sono delle condizioni come lo scompenso cardiaco si può andare incontro a morte. Poi abbiamo invece la malattia di Shagas che è una malattia dovuta al fatto che ci sono delle insetti insomma dei parassiti tipo delle cimitici che sono le triatubine che vanno a succhiare il sangue. Però rilasciano allo stesso tempo le loro feci che contengono il tripanosoma cruzi. Che cosa accade? Che ovviamente crea una sensazione di prurito sulla pelle, il paziente si sfrega, questa tripanosoma va quindi dalla cute a mano in profondità, raggiunge il circolo e quindi va a raggiungere poi i miocidi andando a diminuire la capacità contrattile. La mortalità è bassa soprattutto nei bambini un 5% e un 5% invece esita in una malattia cronica.